Rocco Tenaglia da presidente dell'Orsogna a cui ha dato lustro veramente con le ragazze e complimenti Rocco ben rivisto ci mancava un pezzo che ci tiene tanto e soprattutto all'impavida perché tu sei stato sempre presente pur da presidente dell'Orsogna è una bella soddisfazione Sì sono stato sempre un supporter di questa squadra perché ripeto è una grossa realtà per il nostro territorio lo è sempre stato, società che esiste da 50 anni, 10 anni che milita nel massimo campionato uno dei massimi campionati a livello nazionale e poi mi lega un'amicizia personale con tutta la famiglia Lanci con il presidente Tommaso, con Nunzio che ci ha aiutato quando avevamo bisogno e corso in soccorso dell'Orsogna e anche con tutto lo staff, è una realtà molto interessante, molto dinamica sono onorato, sono orgoglioso di far parte di questa realtà mi impegnerò come ho sempre fatto cercando di apportare qualcosa di buono di dare il mio contributo specialmente in questi momenti in cui si ha maggiormente bisogno del supporto sia morale che economico perché i tempi sono quelli che sono però le prospettive sono buone, ho chiesto collaborazione a diversi personaggi a diversi miei fornitori, collaboratori, clienti, i quali hanno risposto in maniera molto positiva il futuro abbastanza roseo, speriamo di non avere i problemi degli anni passati con la pandemia questo è tutto, speriamo di venirne fuori perché rivolgiamo il palazzetto pieno di tifosi ad acclamare le gesta dei nostri campioni Hai preceduto tutte le mie domande, praticamente non l'ho riassunto però ci tenevo a dire, per chi non lo sapesse ancora, che sei vicepresidente diciamo che raccoglie le realtà di Matricardi che tradizione ha voluto per tanti anni al posto suo e adesso lo sei tu e la famiglia Lanci, ma tutto l'ambiente ortonese che ama la pallavolo di Ortona, che ha rischiato di vedere scomparire una bella realtà del genere, dice benvenuto a Rocco Tenaglia e questa credo che sia un'ulteriore soddisfazione Questo mi inorgoglisce, mi fa piacere e cercherò di non deludere le aspettative di tutta la cittadinanza ma di tutti i tifosi